Buongiorno a tutti, benvenuti e benvenute. Io sono Ercilia Menesini, sono la prolettrice alla didattica e all'orientamento e vi do il benvenuto per questa giornata di Open Day dell'Ateneo Fiorentino. Un giorno all'università, spazi e relazioni per costruire il nostro futuro. Allora, avremo una serie di interventi, sapete appunto, avete visto dal programma, ci sono poi nella struttura una serie di postazioni delle scuole a cui potete recarvi per avere informazioni, deplian, brochure, per parlare con i tutor e quindi in qualche modo approfondire quelli che possono essere i vostri interessi e le vostre motivazioni dal punto di vista dei percorsi universitari. Però direi che possiamo aprire l'evento di oggi e abbiamo, si è diti pure, i saluti della rettrice, la professoressa Petrucci che sta entrando in questo momento.